Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio sulla FIPILI per lavori un chilometro di coda in direzione Firenze tra Empoli e Ginestra Fiorentina e in direzione mare tra Ginestra e Montelupo Fiorentino chiusa per lavori l'uscita di Tirrenia provenendo da Firenze. Sulla A1 fare attenzione per nebbia a banchi segnalata sul tratto appenninico tra Roncobilaccio e Aglio. Su raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata e il restringimento di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la 1 di Firenze in Pruneta. Sulla regionale 70 della Consuma senso unico alternato e il restringimento di carreggiata al chilometro 1 nel comune di Pelago. Worsi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Buon viaggio!